Come ti chiami? Samuele. Caterina. Quanti anni hai? 25. 21. Che ruolo hai in questo triennio? Vicepresidente giovani. Vicepresidente giovani. Cosa fai nella vita? Studio e lavoro come educatore. Studio e basta. Mare o montagna? Montagna. Montagna. Dolce o salato? Salato. Salato. Vino o birra? Se vuoi ti dico da cosa parto con la birra. Vino. Una cosa bella della C. Gli abbracci tra le persone prima e dopo gli incontri. Le relazioni che si creano. Perché hai detto sì? Perché ho conosciuto tante persone con un ruolo importante in AC e sono stati veri testimoni di vita e spero anche io di crescere in questo servizio. Perché ho visto in questo ruolo un'occasione per mettermi in gioco a livello di cesano nell'AC. Qual è un talento dell'altro o dell'altra che porti in AC? Mi dico tre. Entusiasmo, coraggio e giovinezza. Tanta carica ed energia e tantissima esperienza.